Buongiorno, l'incarico di vendita o di locazione in esclusiva è il primo e fondamentale passaggio per chi vuole mettere in vendita o in locazione il proprio immobile. L'incarico è importante perché si va a distravere un rapporto di fiducia tra il proprietario e l'agente immobiliare, con quest'ultimo che darà delle importanti carazze che vado ad elencare. L'agente immobiliare, grazie ad una profonda conoscenza del mercato immobiliare, vindicherà il prezzo più corretto sia per la vendita che per la locazione. E in quest'ultimo caso indicando anche il contratto di locazione più adeguato. Per una transazione trasparente e priva di rischi andrà a fare tutte quelle indagini necessarie, dalla ricerca al reddito di provenienza, alle indagini urbanistiche e a quella catastale. E inoltre si informerà presso l'amministrazione del condominio su tutte quelle che sono le spese condominiali. L'agente immobiliare promoverà l'immobile con la diligenza del buon professionista, avvalendosi della propria organizzazione e di tutti i mezzi pubblicitari che reterà più consoli per una vendita rapida. Con l'incarico andrete inoltre a fissare la provvigione con la garanzia dell'agente immobiliare che vi seguirà fino all'ogito notarile. Se avete da vendere o da affittare un immobile affidatevi sempre ad un professionista, sempre ad un agente immobiliare che si è fiatto e me. Grazie.